84 medici sono pronti ad uscire dagli ospedali marchigiani ed entrare nelle case dei malati di covid in isolamento domiciliare. L'ho annunciato l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini a margine del consiglio regionale di oggi, aprendo la strada ad un provvedimento che ancora non ha precedenti in Italia, quello delle cure domiciliari ai malati di covid-19. Un provvedimento meditato da tempo dall'amministrazione regionale che mira a ridurre ulteriormente la pressione sugli ospedali. Medici dell'Asur, degli ospedali riuniti di Ancona, di Marche Nord e dell'Inrca creeranno una task force che coinvolgerà USCA, medici di famiglie e figure specialistiche, da infettivologi a pneumologi, da cardiologi a neurologi, da pediatri a geriatri. Le terapie a disposizione saranno il remdesivir e gli anticorpi monoclonali da somministrare con infusione in ospedale per poi rientrare a domicilio. Oggi pomeriggio è arrivata l'approvazione della delibera di giunta che darà l'ok a partire fra un mese. Un provvedimento particolarmente applaudito dal presidente della regione Francesco Acquaroli ad un anno esatto dal voto alle urne che l'ha eletto governatore.